Bentornati al Tg7. La regione abbandona i pendolari. Trenitalia detta gli orari dei treni. Rischiano di andare in fumo mesi di difficili interlocuzioni tese a trovare le giuste soluzioni a disagi di questo orario vigente. L'allarme è lanciato dal coordinamento dei comitati della linea FL7 dopo la pubblicazione del nuovo orario treni nei sistemi informativi di Trenitalia e i rinvii che la regione fa alla richiesta di incontro con i comitati stessi. Elementi che nel loro assieme, secondo le rappresentanze dei pendolari, mettono in dubbio la reale volontà di regione Trenitalia e RFI nel dare esecuzioni alle richieste di miglioramento degli orari introdotti a marzo. Quell'orario, sottolineano i comitati, fu introdotto come sperimentale nel tentativo di dare risoluzione a una serie di problemi che si erano originati con le modifiche precedenti e con l'impegno da parte della regione e di Trenitalia di apportarvi gli aggiustamenti rilevati e segnalati anche in collaborazione con i pendolari nel corso del suo periodo di applicazione. Negli incontri che si sono succeduti in quest'ultimo mese con l'assessorato alla mobilità presieduto da Michele Civita, la regione ha effettivamente convenuto con il coordinamento dei comitati le modifiche da effettuare a partire dal nuovo orario dell'11 giugno. Nonostante però le rassicurazioni date sulla loro introduzione, visto l'avvicinarsi della data di attivazione del nuovo orario e l'assenza di evidenze concrete, cresce nei pendolari la preoccupazione che la regione non abbia la capacità o la volontà di portare a termine gli impegni presi esercitando il suo ruolo di committente, col rischio che si vanifichi un lungo e faticoso lavoro di mediazione dei comitati, ma soprattutto calpestando il diritto dei pendolari ad avere un'adeguata mobilità rispettosa delle proprie esigenze e non soggetta a quelle organizzative di Trenitalia, ritenute evidentemente più importanti. Certo è, concludono i comitati, che questo abbandono da parte dell'istituzione rappresenta una scelta politica di dubbia approvazione da parte dei cittadini che rimarrà nella memoria storica di quanti hanno vissuto con fiducia questo cammino ravvicinato tra istituzione e cittadinanza. Parliamo ora di un problema che attanaglia da tempo la sughereta di Monte San Biagio, la presenza di un fungo patogeno che sta distruggendo la vegetazione in particolar modo. Nei giorni scorsi i consiglieri del Movimento 5 Stelle, Gaia Pernarella e Valentina Corrado, hanno presentato un'interrocazione urgente, denunciando la situazione. Ieri se ne è discusso in consiglio regionale con l'assessore all'ambiente Buschini ed è stato chiesto un intervento immediato da parte della regione per contrastare il proliferale del patogeno. La Buschini ha risposto che il 5 giugno la direzione ha fissato un incontro per condividere un percorso tecnico volto a definire i contributi che diversi soggetti coinvolti possono fornire per limitare la diffusione della malattia. Una risposta che non ha però soddisfatto la Pernarella. Si è svolta ieri a Fondi, presso la Casa Comunale, alla presenza del sindaco Salvatore De Meo e dell'assessore al commercio Giorgia Salemme, la consegna simbolica dall'Associazione Ristoranti di Fondi alla Fondazione San Giovanni di Dio del ricavato della serata di beneficenza svoltasi nel novembre del 2015 a favore dell'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi. All'indomani dell'iniziativa, l'Associazione Ristoranti ha ritenuto opportuno soprassedere al trasferimento della somma raccolta, pari a 14.140 euro, per condividere con la Fondazione e il Comune la più opportuna destinazione in ragione delle effettive necessità e potenzialità di miglioramento delle attività dell'ospedale Fondano. Nei mesi scorsi, nell'ambito di una complessa analisi delle difficoltà del nosocomio, si è pervenuti alla decisione di utilizzare l'intero importo all'acquisto del lava endoscopio al fine di garantire un miglioramento delle prestazioni effettuate dal reparto guidato dal dottor Giampaolo Costa, che nonostante le mille difficoltà quotidiane ha saputo garantire un'attività costante ed efficiente a beneficio di migliaia di utenti. Sono aperte le iscrizioni per Psicomotricità Project, programma che prevede un percorso educativo di psicomotricità in gruppo che si terrà in sei incontri nella sede dello studio privato di Rossella Cavolo, terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva in via Vittorio Corsio a Fondi. Il progetto è destinato a bambini tra i 3 e i 5 anni e tra i 6 e i 10 anni, che saranno divisi in piccoli gruppi ed è aperto a tutti anche a bimbi con bisogni educativi speciali. Gli obiettivi degli incontri sono la cooperazione e la condivisione, la partecipazione in gruppo, il sostegno alle aree di sviluppo, la motricità, il linguaggio e le competenze cognitive e simboliche. Passiamo ora agli eventi. L'auditorium comunale di Sperlonga oggi ospita la presentazione della Nazionale Italiana delle Aziende Farmaceutiche. La società, nata lo scorso 16 maggio, ha preso vita da un'idea della Varsocer International Events di Massimo Varroni e ha incontrato l'adesione della Farmacup di Avanzino Capponi, con lo scopo di organizzare partite di beneficenza. Sperlonga commenta il delegato allo sport del Comune, Giorgio Vaccaro, e ancora una volta la ribalta nello sport nazionale. Essere sempre più protagonisti nello sport e nel sociale è l'impegno che ho preso insieme a questa amministrazione comunale. Ecco perché sono orgoglioso di promuovere questa iniziativa e ho subito confermato la nostra volontà di collaborare. Portare a Sperlonga manifestazione di respiro sportivo nazionale e poter valorizzare il nostro bellissimo territorio significa anche aiutare l'economia del nostro paese. Domenica 11 giugno, a grande richiesta, torna l'appuntamento alla scoperta dei sentieri dell'azienda agricola Monti Cecubi, un percorso di 5 km tra le colline, costeggiando i vigneti e varcando boschi di sughere. Al termine dell'escursione sarà possibile degustare vini e piatti locali. L'inizio dell'escursione sarà per le ore 10.30. Il Museo del Brigantaggio di Itri aderisce alla Festa dei Musei 2017, promossa dal MIBAC e dall'ICOM, con un seminario dedicato alle storie contese e intitolato Rappresentare storie contese, briganti e uomini contro nei musei interpretativi del Lazio. L'iniziativa coinvolge anche il Museo del Brigantaggio di Cellere, in provincia di Viterbo, e il Museo delle terre di confine di Sonnino, in provincia di Latina, ed è promossa dall'assessorato alla cultura del comune di Itri. Parliamo ora di sport. Un galoppo contro la Lazio Primavera a Formello, presso il Centro Sportivo Bianco Celestre, per concludere l'annata. Un galoppo di prestigio con il quale l'unicusano Fondi mette la parola fine alla sua prima avventura tra i professionisti affrontando i aquilotti bianco-celesti. Da una parte i rosso-blu, pronti al periodo di ferie prima dell'avvio della nuova stagione, dall'altra i giovani laziali che già sentono odore di Final Eight. Il risultato è un test divertente e giocato in assoluta scioltezza, specie nel primo tempo, anche se il risultato finale di 5 a 3 premia i giovanotti laziali. Pur con numerose assenze, i rosso-blu hanno saputo interpretare nel modo migliore l'ultimo impegno dell'anno, rispondendo con Galasso, rete su respinta del portiere di casa, e con Tiscione, punizione dal limite all'iniziale vantaggio laziale. Nel finale di prima frazione gli aquilotti tornano avanti, prima della ripresa, nella quale prima Suleyman e poi Albadoro, anche lui in gollo su calcio piazzato dai 20 metri, fissano il punteggio conclusivo del confronto. E per l'unico Usano Fondi è arrivato il momento delle vacanze. Questa edizione del nostro TG termina qui. Io come sempre vi ricordo che se avete suggerimenti o segnalazioni da farci, potete mandare una mail all'indirizzo redazionechiocciola tvcanalesette.it oppure contattarci sulla nostra pagina Facebook. Potete inoltre continuare a seguirci sul nostro sito tvcanalesette.it. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento sulla nostra rete.